Musica Per fare? Bisogna il filetto che uscita da via Pronti? Pronti? Via Bravi Grazie a tutti. Questa fiera vuole essere sempre più rispondente a quanto meritano la produzione made in Italy e il mercato di riferimento. Qui infatti è forte, pochissima, la componente del made in Italy che del resto in questo settore è seconda solo a quella statunitense. Grazie a tutti. Tutte le autorità presenti, quelle civili e quelle in Italy dà un po' l'idea fin da subito di che mondo intendiamo rappresentare e di se intendiamo coinvolgere nel mondo fatto per la legalità. Grazie a tutti i rappresentanti istituzionali europei, nazionali, regionali che sono qui a testimoniare quanto questo mondo sia intimamente connesso con un modello che rappresenta la parte buona della nazione. Grazie a tutti. 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 Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Sono Maurizio Bertolassi della RFM. Benvenuti a EOS 2023. Piera ottima, un sacco di gente, parecchia gente anche interessata, la piera cresce sempre di più. Vi aspettiamo, venite a trovarci. A presto. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno, siamo qui a EOS, a Verona, con lo stand del Cacciaviglia a promuovere la nostra manifestazione che ci sarà dal 12 al 14 maggio a Bastia Uvra, Perugia. Veniamo da tre giorni molto belli che abbiamo vissuto qui a Verona con un grande entusiasmo e quindi questo non fa sì che portarci un bello ottimismo per quello che sarà la nostra fiera il 12-14 maggio. Tutto quell'atmosfera tipica, caratteristica che da sempre contraddistingue Cacciavillage, che è un vero e proprio villaggio dei cacciatori dove possiamo riabbracciare i nostri cacciatori, amici e vivere tre giorni di serenità e di divertimento. Buongiorno a tutti, buona serata a tutti, siamo qui a Verona in Fiera EOS, la fiera della caccia, una delle più grandi fiere a livello ormai europeo, dobbiamo dire così perché è un grosso punto di riferimento ormai per la caccia, la caccia non solo, per la pesca e anche per tutto l'outdoor. Noi siamo con Favi, siamo allo stand con Favi e ACR, il più grande stand della fiera di Verona, 480 metri quadri, ben allestiti, con un cospicuo numero di visitatori. Devo dire che già da ieri e quest'oggi il nostro stand è stato uno dei stand più seguiti perché ACR e con Favi è molto attrattivo, è attrattivo in questi ultimi anni perché porta avanti le istanze di tutti i cacciatori, di tutte le forme di caccia senza nulla escludere, perciò devo dire che noi siamo l'alternativa a quello che è l'associazionismo, lo facciamo per noi, lo facciamo per i nostri figli, lo facciamo per tutti quelli che credono alla nostra realtà. Perciò devo dire che una grossa realtà è la nostra e si è visto qui in Fiera, si è visto da quanti ci hanno visitati e da quanti hanno aderito al nostro progetto. Devo dire che quest'anno con Favi è cresciuta del 21,8%, non cosa da poco in questi tempi, vuol dire che lavoriamo per il bene di tutti i cacciatori. Grazie ancora! Carissimi amici cacciatori, ben trovati, siamo qui a EOS edizione 2023, Fiera di Verona, è una grande piera, veramente una grande edizione. Abbiamo presentato alcune novità e fra le quali vogliamo presentare questo orologio che ha veramente riscosso tantissimo successo. L'abbiamo chiamato Hunter Watch perché è un orologio che è nato veramente esclusivamente per la casca. Poche indicazioni, quelle necessarie, semplici, intuitive, precise, display con caratteri veramente luminosi, leggero, compatto, con una grandissima autonomia. È compatibile con tutti i nostri prodotti della linea 103 e Open Map, con la versione Bluetooth ovviamente e sarà disponibile fra alcuni mesi. Quindi volevo ringraziare tutte le migliaia di persone che ci hanno visitato. Alla prossima e viva la caccia e viva i nostri cani. Ciao ciao! Ciao a tutti! Ciao! Buongiorno, siamo giunti al termine di questa fiera, di questo EOS 2023. Io sono Eleonora Vignato, questo è il mio progetto unnuovocacciatore.com, vale a dire il primo portale interamente dedicato agli aspiranti cacciatori. Il primo videocorso interamente digitale per prendere la licenza di caccia. Questo progetto nasce dall'idea di riformare un po' tutto quello che è il tessuto della caccia in Italia e per dare modo a tutti quelli a cui potesse venire voglia di prendere la licenza di avere un mezzo immediato per raggiungere il proprio scopo. È stata una fiera meravigliosa, abbiamo avuto un sacco di riscontro e questa è la dimostrazione che la caccia in Italia e tutto quello che ci gira attorno, dalle armi, l'outdoor e la pesca in generale, non è assolutamente morto. Vi rimando al prossimo appuntamento a Bastia Umbra al Caccia Village. Spero di incontrare tante altre persone. Ciao! Ciao a tutti e ci troviamo qui alla Fireeus di Verona presso lo stand Nature by Marsupio. Siamo un'azienda veneta, produciamo zaini e accessori per la caccia. Quest'anno presentiamo questo nuovo materiale in camouflage e lo potete trovare in vari tipi di zaini come anche nella ghetta e potete recarvi presso i vostri venditori più vicini per scoprire i nostri prodotti da vicino. Buongiorno a tutti, siamo entusiasti di essere qui a Airshow di nuovo. Siamo molto contenti dell'affluenza, ci sono tante persone, tanti interessati, abbiamo presentato tante novità e quindi siamo davvero soddisfatti della fiera e tanti cacciatori e tiratori si sono venuti a trovare anche quest'anno. Abbiamo presentato diverse novità sia sulla caccia al cinghiale nella gamma Wild Impact con le nuove cartucce a palla sia in cali 12 che in cali 20 e un rinnovamento un pochino di tutta la nostra veste grafica a partire dalla linea alla collezione che è il nostro fiore all'occhiello per poi andare a declinare la nostra nuova immagine in tutti i nostri prodotti. Quindi se non l'avete già fatto andate a visitare il nostro sito internet che richiede il nostro catalogo e informazioni sui nostri prodotti nelle armerie. Grazie a tutti. Fondazione 1 è un'organizzazione non profita e non governativa che nel suo nome racconta già che cos'è. Una come uomo natura ambiente. Noi abbiamo una visione ecologica della natura, della biodiversità dove l'uomo ne fa parte. Fondazione 1 mette insieme diversi mondi, quindi il mondo della caccia, dell'agricoltura, importantissimo il mondo scientifico perché l'attività venatoria sostenibile si deve basare su dati scientifici, quindi il mondo universitario è di grandissimo. Portiamo avanti molti progetti. La presenza nostra alla Fiera EOS è importante e abbiamo deciso di concentrarci sulla presentazione di alcuni dei nostri progetti, in particolare Selvatici e Vuoli. Selvatici e Vuoli nasce per dimostrare che occorre una filiera sostenibile della Selvacina. Abbiamo portato avanti una sperimentazione in provincia di Bergamo e adesso questo progetto si sta estendendo in altre parti d'Italia e coinvolge i cacciatori, chi macella le carni, i veterinari, i ristoratori. Noi qui presentiamo degli showbooking per far capire quanto la carne di selvaggina sia davvero sostenibile perché proviene da una caccia basata su dati scientifici. Tra l'altro è una carne sana perché gli animali selvatici vivono in un ambiente sano ed è ricca di proprietà, una carne magra. Pensate che la carne di cervo è una carne magrissima che è anche ricca stranamente di omega 3, un po' come il pesce, quindi è assolutamente buona da mangiare. In Fiera presentiamo anche altri progetti per dimostrare quanto i cacciatori siano vicini all'ambiente. Insomma siamo davvero impegnati su più fronti e speriamo che qui il nostro messaggio sia passato. Per il secondo anno dall'inaugurazione di questa fiera siamo presenti con il nostro stand, come Armerio Bioltini e dopo un primo anno un po' in sordina ma fatto all'ultimo momento ma comunque ci abbiamo creduto perché arrivavamo da un periodo post pandemia nel quale ci dovevamo rilanciare tutti come settore, abbiamo partecipato più entusiasmo a questa seconda edizione e è stato centrato l'obiettivo per la grandissima presenza. Si è lavorato parecchio, abbiamo delle prospettive molto importanti e devo dire che abbiamo finalmente rivisto gli stranieri, cosa che nelle altre fiere io ho partecipato all'ultimo EXA o anche a Vicenza, purtroppo c'era questa latitanza, per cui io sono molto soddisfatto e sicuramente parteciperò il prossimo anno rilanciando ancora di più il nostro prodotto e i nostri marchi. Siamo qui a EOS Verona, anche quest'anno 2023, questa fiera prestigiosa è importantissima, come ogni anno siamo qui per presentare i nostri prodotti, le nostre novità e incontrare gli amici clienti che hanno piacere, sono venuti, hanno piacere di venirci a trovare nelle varie destinazioni. Allora, oggi vi prepariamo del sushi di selvaggina. lo mettiamo tutto al centro e nel fondo, è andata ben stretta e vi aiutate arrotolando, pressando mano troppo e mano a mano continuate a girare. Continuiamo a girare, giriamo, giriamo. Buongiorno amici di Cacciare TV, siamo qua a EOS 2023, dove siamo? Siamo alla Gronel, dall'amico Fabio. Cosa vi presentiamo? L'anno scorso abbiamo presentato il Varenne, quest'anno invece un nuovo gioiello, diciamo ancora più, con delle rifiniture ancora più importanti che il Varenne. Come si chiama? Ci dobbiamo ancora pensare, sarà a breve battezzato. Importante scarpone sempre per caccia alla beccaccia o comunque caccia nel bosco. Questa è la versione bassa, poi ci sarà la versione un pochino più alta per quanto riguarda l'altezza dello scarpone. Cosa dire? Il Varenne è sempre un grande made in Italy, visitate il sito e per qualsiasi dubbio o perplessità contattatevi. EOS Verona 2023, grande novità per i cacciatori di montagna ma non solo, per chi si dedica anche l'osservazione naturalistica, è il piccolo telescopio di Swarovski Optic. Due modelli angolato e dritto, nelle colorazioni verdi oppure arancione alta visibilità. Ingrandimento variabile 17-40 è lo strumento essenziale per il cacciatore moderno. Buongiorno a tutti, sono Patrizio Carotta, sono l'amministratore delegato di EOS. Si sta concludendo questa edizione superlativa di una fiera che è andata oltre le nostre più rose aspettative, 330 espositori, più 191 marchi rappresentati e alla fine oggi abbiamo tratto le conclusioni con il pubblico che è entrato, 36.500 persone. Davvero non ci aspettavamo nemmeno questo, quindi non potevamo aspettarci di più. Io voglio ringraziare gli espositori che ci hanno creduto, i visitatori che hanno deciso di venirci a trovare e che, ne sono convinto, si sono trovati bene, si sono divertiti, hanno trovato le cose giuste per le loro passioni. Io vi do appuntamento al prossimo anno, dal 17 al 19 febbraio, sempre a Verona Fiere con la terza edizione di EOS. Sono sicuro che sarà ancora più ricca perché già abbiamo una trentina di aziende nuove che hanno chiesto di partecipare, quindi faremo sicuramente di più e di meglio anche il prossimo anno. Venite a trovarci dal 17 al 19 febbraio 2024. Ciao a tutti! Ciao a tutti!